Il protocollo d'intesa prevede l'attivazione di attività sportive per persone con disabilità, ma non solo. È un protocollo che ha una veduta molto ampia perché nel protocollo si parla anche di inclusione. Quindi l'inserimento nelle attività sportive sarà fatto nello spirito dell'inclusione coinvolgendo un po' tutti i soggetti che vivono attorno al disabile. Ma non solo. Nel protocollo d'intesa si parla anche di accessibilità, di barriere architettoniche. Quindi ci si pone anche l'obiettivo di fare una mappatura di tutti quelli che sono gli impianti sportivi, non solo nel comune di Pesono, ma l'ambizione è quella di arrivare a tutta la provincia di Pesono e anche oltre. Ed è un lavoro che già Piattaforma Solidare sta facendo. Non so se qualcuno si rammenta, Piattaforma Solidare su questo ha fatto anche un protocollo d'intesa con la provincia e con gli ordini professionali. E questo ulteriore protocollo rientra fra le attività che Piattaforma Solidare vuole portare avanti su questo settore, quello di rendere tutti gli ambienti dove devono vivere persone con disabilità e difficoltà più vivibili, più accessibili. Perché la vera inclusione nasce da questo. Il progetto nasce dall'amicizia, diciamo, che con Massimo e Sara Domenicucci, che è una mia grande amica, mi ha parlato di Piattaforma e, essendo io anche un consigliere nazionale della Federazione Italiana Pentatron Moderno, e mi occupo dell'inserimento del settore parolimpico nella Federazione Italiana Pentatron Moderno, ho pensato bene di portare questo settore a Pesaro. Ovviamente abbiamo già avuto all'interno della nostra associazione sportiva, che è attiva dal 1990, atleti con disabilità. Chiaramente, non essendo il Pentatron ancora abilitato a livello nazionale per fare questo sport con le persone disabili, abbiamo ben pensato di progettare e portare avanti questo progetto che si chiama Il Faro della Vita, che sensibilizza, diciamo, allo sport del Pentatron Moderno le scuole di Pesaro e soprattutto tutto il territorio, perché comunque è importante, secondo me, questo progetto dell'inclusione. Il progetto si divide in due parti. La prima parte è direzionata verso i seminari per i docenti, per i tecnici sportivi, per tutti coloro che vorranno partecipare. E poi ci sarà la parte scolastica, per cui progetti sportivi all'interno della scuola, con l'inclusione dei bimbi con disabilità. E poi ci sarà la parte scolastica, per cui progetti sportivi all'interno della scuola,